Buongiorno a tutti, come ormai sapete i giornalisti non sono presenti in sala, hanno inviato le domande, i due colleghi Roma Radio e Roma TV ci aiuteranno a porcere il mister Fonseca. E invece è presente in sala l'inviato di Sky, Angelo Mangiante, a cui lasciamo la parola per l'inizio della conferenza. Buongiorno. Una sfida tra due grandi squadre con un calcio anche differente, un calcio molto collettivo, quello della Roma, un calcio totale, è un calcio che si affida molto, quello dell'Inter ha l'individualità di due attaccanti fortissimi come sono Lautaro e Lukaku. Le chiedo come ha preparato una sfida così insidiosa come quella con l'Inter, conoscendo anche le qualità della squadra di Conte? È vero che l'Inter è un grande giocatore, un grande individuale, ma io non posso vedere solo le cose così. Per me l'Inter è una grande squadra, una squadra con un'identità molto forte. È facile di capire come gioca l'Inter, ma è molto difficile di contrariare. Per me non sono solo l'individuale, sono una squadra che è collettivamente molto forte e che è vero che ha un'individualità molto forte, ma abbiamo preparato la partita pensando nel collettivo forte dell'Inter e anche in situazioni individuali che sappiamo che anche loro sono forti. Ci sono dentro la partita anche dei duelli che possono pesare, che possono risultare decisivi? Mi viene in mente, ad esempio, sulla fascia una sfida tra Hakimi e Spinazzola. Spinazzola però è riduce da un infortunio. Vi chiedo come sta, ecco, se è pronto per giocare una subit fin dall'inizio, a primo minuto una partita così complicata? Sì, Spinazzola ha recuperato, sta bene, ha allenato questi giorni bene e giocherà domani. Eccoci, mister. Domanda di Dazon. A Crotone grande partita di Cristante e Villar. Domani, considerando anche le caratteristiche dell'Inter, accanto a Veritù la strategia sarà quella di continuare a puntare da subito sulla capacità di palleggio e di occupare gli spazi di Villar o sulla fisicità e attitudine tattica di Cristante? Questa è una domanda per sapere chi giocherà domani. Quello che io posso dire è che due di questi tre giocatori, Veritù, Villar e Brian, due giocheranno. Buon pomeriggio, mister. Domanda della Gazzetta, dello Sport. Visto che lei ha sempre detto che l'Inter è una delle due favorite per lo Scudetto, se la Roma domani dovesse vincere, entrerebbe a pieno titolo in questa lotta? Io voglio dire quello che ho detto sempre. Per noi quello che è importante è la partita di domani, giocare per vincere la partita di domani. E dopo pensiamo alla partita dell'Asia. Penso che non è giusto pensare in più in questo momento, è giusto pensare solo nella prossima partita. Il romanista le chiede, nell'estate del 2019 la Roma contattò anche Conte, domani lo ringrazierà per aver detto di no? Domani è sicuro che avremo la possibilità di parlare prima della partita o dopo la partita, ma non penso che parleremo di questo. Il Corriere dello Sport le chiede, lei ha sempre detto che la sua Roma non ha mai vinto gli scontri diretti per una questione di dettagli. Quali dettagli servono per battere l'Inter e smentire questa statistica? È vero, questi sono i tipi di partita che si decide in dettaglio. È facile capire che contro una squadra con la qualità dell'Inter non possiamo sbagliare. Dobbiamo essere molto rigorosi difensivamente e dopo avere la fiducia per avere la palla e cercare il spazio che vogliamo, ma sono partite che possono decidere i dettagli e abbiamo lavorato con questi dettagli per non sbagliare. Il tempo. Mirante ha recuperato, Paolo Lopez ha fatto bene nell'ultima gara. In questo momento lei chi sceglie? Prima devo dire che Mirante non sta bene, ha allenato questi giorni, ma ho sentito di nuovo un fastidio e non sta bene perché è facile capire che giocherà Paolo. Rete Sport chiede, come sta Diawara e come mai non rientra più nelle rotazioni? Sta bene, sta allenando bene, sta molto meglio fisicamente, deve aspettare per l'opportunità. Avrà sicuro l'opportunità di ritornare a giocare, ma in questo momento sta allenando molto bene. Diawara è un grande professionista che allena sempre bene, giocando o non giocando. Sono fiducioso che brevemente avrà l'opportunità per giocare. Tederato Stereo, dopo la sconfitta con l'Atalanta si è parlato molto di un problema della Roma nei big match. In questi giorni ha lavorato in maniera particolare sulla testa dei giocatori per preparare la partita? Abbiamo lavorato come sempre, abbiamo lavorato con questo tipo di partita. È una partita in cui tutti i giocatori sono molto motivati, stiamo bene in questo momento e mi sembra che la squadra ha fiducia e ambizioni per poter giocare una buona partita contro una grande squadra. Centrosuono Sport chiede Salve mister, affrontate una squadra che ha alcuni movimenti offensivi abbastanza codificati. La palla dall'esterno in mezzo per le due punte. Una viene in contro e l'altra va in profondità, con una mezzala che attacca allo spazio opposto. Le chiedo soprattutto contro l'Inter, quanto è importante non concedere la profondità? È vero che l'Inter gioca molto con i due attaccanti e dopo usa la profondità, ma qui in Italia tutte le squadre sono molto profonde e questa è una preoccupazione sempre della nostra squadra, controllare bene la profondità. Domani sarà lo stesso, è importante controllare la profondità dell'Inter. Domanda da parte nostra di Roma TV, mister. Lei dalle prime settimane di questa stagione, quando ha potuto, quando ha avuto la possibilità ha sempre cambiato molto, quando si giocava ogni tre giorni, per arrivare, per portare il gruppo a uno stato di forma fisico che le potesse garantire sempre un rendimento costante. A Crotone ha cambiato, la squadra ha risposto alla grande. Ecco, le chiedo, sta raccogliendo adesso i frutti di quel turnover e anche a livello di consapevolezza di squadra. Affrontare l'Inter adesso è la Roma nel momento migliore, anche di testa? È un buon momento, la squadra sta vincendo, sta con fiducia. È stato importante fare giocare tutti i giocatori. Adesso dobbiamo gestire questi due o tre mesi bene, perché abbiamo tante partite, è importante che tutti siano bene fisicamente. Penso che la squadra sta bene fisicamente per affrontare queste partite, che sono tante adesso. Domanda di Roma Radio, mister. Dopo quello con la Juventus, questo è il secondo big match in casa per la Roma. Quanto le mancheranno i tifosi e quanto mancheranno alla squadra? Molto. È una partita che cria un'atmosfera diversa. Penso che avere i tifosi è molto importante. Devo dire più, noi abbiamo i tifosi nel stadio, era importante avere in questo momento, ma noi sentiamo sempre l'appoggio dei nostri tifosi qui a Trigoria quando andiamo nella strada, quando arriviamo nel stadio. Penso che era una partita importante per avere i nostri tifosi con noi. Sì, funziona. Mister, solo una cosa, perché in Parapria di Mirante immagino che non sarà convocato a questo punto. Chi diventa il secondo? Perché ho visto che è tornato anche Fusato, no? È lui il secondo o è Farelli? Sì, Fusato. Il secondo è Fusato. Fusato. Sarà con noi domani. Grazie. Grazie. Grazie.